C'hanno fatti tutto, non vi faccio, c'hanno fatti tutto. È andata, come al solito, malissimo. Ci rivedremo con Salernitana Nocerina, Salernitana Cavaese, Salernitana Paganese e quant'altro. E beh, il gemellaggio non c'entra niente con la partita, chi ha più forza quello vince, probabilmente il Bari è più forte della Salernitana. Il problema non è il Bari, il problema è la nostra squadra. Ci dobbiamo credere, sempre, ma è mollato. Non c'è niente da fare, forse faremo un altro camminato di Serie C. La differenza secondo me l'hanno fatti i portieri. Perché regaliamo i gol ai nostri avversari, sia il portiere che la difesa, una squadra orribile. Non c'è proprio niente da dire, ormai siamo all'etrocessi. Grazie al portiere. Abbiamo perso, però non fa nulla, abbiamo visto sette golle, va bene così. Ma è finito, no? Ci stanno le partite da giocare, poi c'è la riprega auto al limite, magari. Ma come ti mi scatti, come me lo fai, ogni tiro mi chiammi i culi. La pace quando è soccata, non fa prima ne inganna la pastiglia. Vado in girano per quartiere, come è bello un tramonto che ho visto a ieri. Sono che salerno e dico grazie a mamma.